Anche la 21esima edizione della Pontignano Conference è stata onorata la presenza di importanti esponenti del mondo imprenditoriale, sociale, politico sia dell'Italia che della Gran Bretagna. Abbiamo avuto l'onore di avere il primo ministro Enrico Letta che ha ricordato l'importanza dei rapporti fra Gran Bretagna e Italia. C'è un legame molto forte di cui è proprio un esempio la nostra conferenza, la Pontignano Conference, che è una delle forme del dialogo fra Italia e Gran Bretagna. Come sappiamo questa conferenza si è svolta sui temi del welfare, un tema che è particolarmente importante in questi giorni anche per quello che è successo nelle acque di Lampedusa e anche in questa conferenza si è dimostrato che per riuscire a venire fuori da questi problemi che ci stanno attanagliando, certamente la forza dell'Europa, l'idea di un'Europa ancora più coesa è l'unica strada per andare avanti e per superare le questioni.